Salve, sono il maestro Kleber Battaglia, maestro di Kung Fu Wing Chun, un'arte marziale diffusa da Hong Kong dal grande maestro Yip Man, il maestro di Bruce Lee che la rese famosa negli anni 70. Il Wing Chun ha un approccio scientifico e biomeccanico al combattimento ed è basato sui concetti di efficacia e semplicità di movimenti. Se volete saperne di più, contattatemi sul sito londonselfence.co.uk